buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 14 luglio 2023 una data importante per i nostri cugini don trap e quelli francesi ma per noi oggi è una giornata d'estate una giornata calorosa diciamo così d'estate e quindi diamo un'occhiata alle notizie partendo dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san camillo dell'ellis san camillo visse tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo nacque in un paesino dell'abruzzo bacchianico presso chieti prima militare poi manovale in un convento indossò il saio dei cappuccini ebbene fu veramente una folgorazione perché poi lavorò con grande amore e grande intensità a favore dei poveri dei desiderati degli ammalati lavorò con san filippo neri nelle cure degli infermi a roma tanto che papa leone tredicesimo lo dichiarò patrono di tutti gli ospedali quindi quando andate all'ospedale magari per un piccolo malore o un grande malore ebbene rivolgetevi a san camillo dell'ellis le previsioni del tempo c'è poco da dire vediamo il sole il sole in tutta la regione condizioni ampiamente solleggiate su tutte le marche salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi le massime sono in lieve calo rispetto a ieri siamo un pochino al di sotto dei 30 gradi 29 gradi la massima 22 la minima i venti sulle coste da direzione nord nord est sull'interno da est e il mare il mare dovrebbe essere leggermente mosso ma di questo chiediamo conferma a cristiano boni dei bagni e azzurra ciao cristiano buongiorno massimo buongiorno a tutti allora iniziamo il nostro piccolo colloquio come ieri com'è il mare stamattina leggermente mosso bravo massimo sei super informato e date informazioni sempre sempre giuste da farlo vi faccio vedere ci dovrebbe essere un po di sole ma ecco ecco lo vediamo non lo spaventa oggi all'orizzonte tutto piazza quindi dovrebbe rimanere così dai ma vediamo anche una battigia una bella spiaggia tutta pulita livellata bellissima complimenti per la tua concessione iniziamo presto la mattina e quindi la ripulite tutti i giorni la ripulite tutti i giorni davanti si davanti passiamo il trattore quello grande come vedi ci sono tutte le strisciate poi all'interno quello più piccolino bagliamo la sabbia in modo da essere sempre pulita e perfetta e bella spianata è veramente molto bello quando si arriva la mattina e poi mi dicono che adesso magari si fuma di meno rispetto al passato ma ci sono degli ombrelloni con i portaceneri in modo che magari non si butti la cicca di sigaretta sulla spiaggia dove si cammina a piedi nudi anche vero ci sono faccio un appello visto che me l'hai manzionato utilizziamoli perché non tutti purtroppo li utilizzano e per noi è semplice pulirla perché noi abbiamo la spiaggia differenza la sabbia differenza di spano che hanno i sassi però non è bello comunque in quina e quindi utilizziamoli anche più facile per noi pulire quindi un appello un po a tutti bravo massimo che l'hai detto è sempre una cosa positiva senti ma i bambini possono fare delle buche in spiaggia oppure costruire quelle piste che una volta si facevano per giocare con le palline certo certo non è fattibile fare tutto noi comunque la sera quando poi chiudiamo e la mattina quando riapriamo passando i trattori riusciamo a livellare sempre quindi non c'è pericolosità poi di lasciare buche aperte perché noi lo facevamo da piccoli no c'era nessun divieto quindi perché non far divertire i bimbi con questa bellissima sabbia quindi e quindi diciamo che ogni giorno la spiaggia si rinnova insomma si presenta sempre nel migliore stato a ogni giorno benissimo cristiano benissimo grazie quindi oggi ancora una bella giornata immagino per tutte le giornali leggermente mosso la bandiera sarà bianca immagino sì ancora no perché il bagnino non c'è quindi alle 10 si ufficializza la possibilità di fare il bagno prima rimane rossa quindi la balneabilità è permessa solo quando è in funzione il servizio salvamento questo lo dobbiamo dire per la sicurezza di tutti i bagnanti bravissimo grazie grazie cristiano domattina domattina la sorpresa ci saranno anche i miei soci per l'ultima l'ultima ripresa gli ho chiesto loro di essere con me di farmi compagnia sarà un nostro piacere sarà un nostro piacere conoscerli grazie cristiano buona giornata buona giornata tutti e allora apriamo i giornali oggi sul corriere adriatico vediamo l'apertura sulla pagina di fano e vediamo che c'è una polemica una polemica che è un po strana perché di solito ci dovrebbe essere sintonia tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria invece sui giornali oggi appare una frattura che cosa è accaduto è accaduto che nel momento in cui l'assessore al turismo etienne lucarelli ha presentato la visit card questa iniziativa che consente a chi paga la tassa di soggiorno e quindi è ospite delle nostre strutture ricettive di usufruire di molti servizi gratuitamente tra cui il trasporto pubblico sia urbano che extraurbano visite nei musei nelle aree archeologiche insomma diversi servizi importanti anche dal punto di vista economico ebbene in quella occasione è scoppiata la polemica sulla tempestività sulla sulla tempistica diciamo meglio con cui è stato approvato l'aumento della tassa di soggiorno una tempistica lo abbiamo detto anche ieri che si riferiva al fatto che l'aumento era stato decretato quando ormai i pacchetti turistici erano stati venduti quindi non era possibile ritoccarli e questo ha destato qualche protesta in realtà ha detto etienne lucarelli abbiamo stabilito a ottobre durante gli stati generali del turismo la volontà dell'amministrazione comunale in accordo con tutte le associazioni di categoria di modificare la tassa di soggiorno con l'obiettivo di rilanciare il progetto della card il che significa che siamo a ottobre quindi c'era tutto il tempo per poi magari inserire nel pacchetto che si vendeva e quindi le vacanze un piccolo aumento relativo alla tassa di soggiorno e questo ha provocato veramente un botta e risposta tra l'assessore lucarelli l'associazione di categoria l'assessore e dequalifica il consorzio degli hotel alberghi consorziati e dice che occorre un nuovo interlocutore un nuovo soggetto perché questo non rappresenterebbe più secondo appunto l'assessore la volontà degli albergatori ma vedremo poi come questo si ricomporrà perché ovviamente tra albergatori e assessori al turismo ci deve essere sintonia e a fondo pagina invece vediamo uno degli interventi più interessanti ma anche più dibattuti che vengono fatti sul bastione sangallo a fano bastione sangallo è uno dei monumenti più rappresentativi della fano rinascimentale della fano papalina fu un bastione commissionato dal papa per difendere la città dall'assalto dei turchi che con le loro galee furoreggiavano in adriatico depredando appunto le città della costa questo grande bastione fu appunto eretto per difendere la città ed ora viene restaurato ma c'è una anche qui c'è una polemica viene tirato in ballo l'assessore l'ex assessore all'urbanistica dino zachilli che all'alba del nuovo millennio eravamo appunto all'inizio del 2000 aveva coordinato il primo piano di recupero invocando rispetto per l'essenza e la natura del fortilizio cioè per quello che rappresenta dal punto di vista storico invece sembra che gli interventi che vengono fatti vengono fatti soprattutto per aumentare la capienza di questo monumento in realtà dice la Brunori se poi questi monumenti della città non vengono resi fruibili non vengono resi vivi poi naturalmente deperiscono e allora si perde la memoria appunto degli stessi di quello che hanno rappresentato c'è un diverso punto di vista tra le due posizioni vediamo ora le altre notizie piazza centrale dimenticata eventi altrove qui il deserto protestano gli esercenti di piazza 20 settembre perché rispetto agli anni scorsi sembra che in piazza vengano organizzati pochi eventi tra cui anche quelli della Fano dei Cesari che quest'anno puntano in modo particolare in piazza Andrea Costa e Alpincio la rabbia dei negozianti nessun riscontro nemmeno dalla Fano dei Cesari invece a Fossombrone si valorizza e si evidenzia il sistema della videosorveglianza un sistema che ormai non è solo nelle città più importanti ma anche nei paesi decentrati perché la sicurezza è un bene prezioso per tutti quindi tutelarla con impianti di videosorveglianza è un elemento in più per garantire appunto la tranquillità di tutti i residenti ed è l'assessore mezzanotti che parla ora stiamo valutando come e dove intervenire ebbene c'è una risorsa si tratta di 522 mila euro destinati dal ministero dell'interno il viminale per la videosorveglianza sono 133 mila quelli destinati a Fossombrone ed ora si dice si pensa dove sistemare queste nuove videocamere soprattutto per individuare ma già lo si conosce ovviamente i punti strategici della città quelli che hanno bisogno di una maggiore sicurezza è una ciclabile ma ci transitano auto e moto ed è l'associazione ambientalista lupus in fabola che denuncia un fatto strano a Fano a Fano sulla spiaggia dell'anzilla c'è un camminamento che si pone tra la ferrovia e le concessioni balneari che dovrebbe essere secondo le classificazioni dell'amministrazione comunale una pista ciclabile ma non c'è alcun cartello che la identifica come tale e quindi è logico che i motorini le motociclette anche le auto la percorrano potrebbe essere comprensibile se le auto magari rifornissero soltanto i bar le concessioni di spiaggia per quanto riguarda i prodotti di consumo ma poi sembra che qualcuno si approfitti e parcheggi l'auto vita natural durante e allora qui c'è gli ambientalisti che insurgono e dicono decidetevi se quella è una pista ciclabile mettete un bel cartello non fate passare le auto se non lo è invece è terra di nessuno e ancora sul Corriere Adriatico passiamo alla Val Cesano e a San Lorenzo in campo vediamo che ci sono soldi per così ristrutturare l'archivio di Stato un vero e proprio tesoro per la memoria e per la storia della città archivio storico e tradizioni due finanziamenti regionali il sindaco 13 mila euro per la valorizzazione di storia e patrimonio locale il sindaco ovviamente è il sindaco Davide Dell'Onti l'assessorato regionale alla cultura ha valorizzato l'archivio storico prevedendo dapprima 7 mila euro poi un ulteriore stanziamento appunto per rendere vivo e consultabile soprattutto e conservativo l'archivio storico della città. L'archivio storico abbraccia tutto il periodo storico preunitario dal regno napoleonico alla restaurazione e verranno inoltre digitalizzati lo statuto della comunità di San Lorenzo in campo che risale al quindicesimo secolo il libro dei consigli del comune una miniera di informazioni per quanto riguarda la storia per quanto riguarda l'evoluzione della vita sociale di questo centro molto molto interessante San Lorenzo in campo è vicino a Suasa una città romana e poi ha una abbazia veramente di grande significato dal punto di vista monumentale e religioso. Vediamo qualche notizia di Senigallia si parla di sport scatta il Ximasters ma però senza il triathlon un ennesimo evento sportivo che sfugge c'è l'affondo di beccacci di vivi Senigallia assurdo ha detto di rinunciare a migliaia di atleti domani parte comunque questa manifestazione sportiva e l'Ximaster però si rimpiange la mancanza del triathlon. Vediamo ora le altre notizie ne ho segnalata una che riguarda tutta la regione ma di concerto anche la nostra provincia le spese facili bolla di sapone tutti assolti 38 ex consiglieri aveva fatto scalpore sensazione la notizia che molti consiglieri regionali e anche assessori erano stati indagati per delle spese facili per delle spese che non avevano nulla a che fare con l'assetto istituzionale e quindi erano finiti davanti al giudice ora invece tutti sono stati assolti. L'inchiesta sui rimborsi iniziati dieci anni fa colpo di spugna dopo un ping pong di ricorsi e contro ricorsi. Esultano esponenti politici noti come Carloni, Latini, Castelli sollievo anche per il sindaco di Ancona Silvetti che rischiava la sospensione. Una decisione questa presa dai giudici in dieci ore di consiglio e alla fine si è chiarito che il fatto non sussiste. E abbiamo anche una dichiarazione di Mirco Carloni, dell'onorevole Mirco Carloni della Lega perdita di tempo e di denaro ero convinto del mio operato. Io uomo delle istituzioni. E poi Latini delega i commenti a Saccone. Insomma da prescritto ad assolto ho insistito. E c'è anche la dichiarazione del commissario Castelli. Insomma un sospiro di sollievo dopo dieci anni di apprensione perché non fa piacere a nessuno, nemmeno agli onorevoli, ai presidenti, ai consiglieri regionali di vivere con una spada di Damocle sulla testa che dice guarda che puoi finire in prigione o cose del genere. Poi magari non ci finiscono ma questo è un altro discorso. Vediamo l'apertura sulla pagina di Pesaro. Hotel e garage bloccati. A Levante è un'odissea, la giungla degli scooter. Un problema quello dei parcheggi, non solo delle auto ma anche delle due ruote che costringe gli albergatori a chiamare spesso i vigili a rimuovere appunto questa marea di veicoli. Vediamo qui quando vengono caricati sui camion che li portano via. Perché veramente non c'è un ordine, non c'è un sistema razionale pulito in modo che non succedano poi degli incidenti oppure non si viva in mezzo alle due ruote. Mi batterò per fare di Pesaro una meta turistica, lo ha dichiarato Filippetti che ha presentato il Charlie Hotel. Il nome è un omaggio a Lindbergh e qui vediamo appunto la torta di inaugurazione per il benvenuto Charlie. Rischio incendi con la super AFA. A il San Bartolo Vara il Decalogo. Fa caldo? Fa molto caldo. Ieri la temperatura ha superato i 30 gradi ed è molto facile che scattino degli incendi, specialmente nelle aree boschive oppure nelle aree incolte. Basta una cicca di sigaretta. Si parla anche di autocombustione, ma questo è ancora un pochino più difficile. Comunque delle imprudenze possono appunto causare gravi danni. Ecco perché il bellissimo contesto ambientale del San Bartolo merita una più attenta sicurezza e quindi si vara un decalogo per cercare di preservare questo bellissimo sito di valore ambientale. Primo è proibita l'accensione di falò, ovviamente, specie in riva al mare e nelle zone dove la vegetazione è più secca, compresi l'uso di barbecue al di fuori delle aree di pertinenza delle abitazioni e il ricorso alle lanterne cinesi che possono poi atterrare in punti molto delicati. Secondo punto, si vieta la sosta e la circolazione nelle piste e nei percorsi secondari quali cararecci, sentieri, itinerari forestali, nonché su altri ambienti interdetti. Quindi anche qui tutto deve essere preservato. Vediamo ora il resto del Carlino. Sulla pagina di Fano si dà ampio risalto alla protesta dei commercianti di Piazza 20 Settembre. Protestano i commercianti che si sentono esclusi. È tutto spostato al Pincio, qui c'è il deserto. Al Pincio è molta animazione, invece in piazza non ci sono feste. Lucarelli contro Cecchini degli albergatori. Cecchini è il presidente della cooperativa del consorzio, diciamo meglio, degli albergatori di Fano, Torrette e Marotta. Comunque è una polemica che credo che avrà senz'altro dei riscontri e delle nuove dichiarazioni. Degrado a Bellocchi, la Giunta va in trasferta. Ebbene il sindaco Massimo Seri, il vice Fanesi e l'assessore Lucarelli hanno incontrato alla Profligas gli imprenditori e delle maggiori ditte che operano nella zona industriale di Fano per vedere, chiedere le loro esigenze. E tra i partecipanti, oltre a Giancarlo Paci, che è il titolare della Profligas, che era il padrone di casa, c'era anche l'ex presidente di Confindustria, Paolo Andreani, Federico Ferrini della Tecfem, Pietrelli della nota azienda di Porta e Figlio di Daniele Carboni e rappresentante dell'azienda di Famiglia. Questo solo per alcuni imprenditori significativi che hanno incontrato il sindaco per evidenziare tutti i problemi, tutte le esigenze di questa importante zona del comune di Fano dove si fa veramente economia. Motozappa sul Polpaccio rischia di disanguarsi. Un brutto incidente è accaduto a Dorciano dove un settantasettenne è rimasto seriamente ferito. È intervenuta l'eliambulanza, l'uomo è stato sottoposto ad un intervento ad Ancona. E malgrado il dolore, il pensionato è riuscito a salire in auto e guidare fino a casa. Ecco perché insomma durante il tragitto rischiava veramente di dissanguarsi. A Urbino fa un evento molto molto animato in tribunale. Il rompe in aula e insulta il giudice. È stato arrestato. Cercava un magistrato e pensava di individuarlo in una magistrata che era lì presente in questa udienza. In realtà lei non era. Comunque l'uomo poi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa l'accusa è stata contestata. E poi abbiamo l'episodio del avvocato che aveva così taglieggiato i soldi di suoi sei assistiti. Erano tutti anziani. Un avvocato è stato indagato per peculato. Un avvocato di Urbino sequestrata alla sua casa fino ad un ammontare di 135 mila euro. Pensate quanti soldi aveva così si era appropriato dai contocorrenti dei suoi assistiti. Ma ora è finito nel mire della giustizia. Io staffetta partigiana rubavo fucili in caserma. Parla così Ginesio Rulli, detto Gianni, che racconta le sue rischiose imprese da ragazzo. Nascondevo le armi nel fiume Foglia per la brigata GAP. Un ricordo per quanto riguarda la lotta della resistenza. Voglio segnalarvi anche questo articolo che riguarda un'azione compiuta dagli uomini del commissariato di Fano, diretto dal vicequestore Stefano Seretti. È passato dagli arresti domiciliari al carcere. Lui è un 41enne campano, un camorrista del clan Vollaro. E ieri gli agenti del commissariato di Fano lo hanno portato a Villa Fastigi in esecuzione all'ordine di carcere. Gli agenti hanno compiuto le indagini e quindi sono riusciti a fermare questa persona e a portarla poi a Villa Fastigi. In ordine ad un ordine di esecuzione per quanto riguarda la carcerazione che era stata determinata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli dal momento che è diventata esecutiva la sentenza della Corte d'Assise d'Appello della città partenopea. Quindi è stato messo in sicurezza un uomo molto pericoloso. Ed era l'ultima notizia. A questo punto terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre un appuntamento a domani. Intanto vi auguro buona giornata. Grazie.